ci troviamo a ribera all'interno della villa della vittoria che è stata ristrutturata grazie ad un finanziamento di circa un milione di euro c'è una nuova pavimentazione in ceramica la vedete realizzata dal maestro di sciacca salvatore sabella ma ci sono anche altri elementi nuovi ci sono delle strutture in legno che vengono utilizzate per le fiere per l'esposizione dei prodotti di ribera ne parliamo con l'assessore comunale cristina cortese una realizzazione importante per il vostro comune sì sicuramente una realizzazione molto importante ieri pomeriggio infatti è stata restituita alla città di ribera una villa comunale che senza alcuna presunzione possa affermare essere la più bella del della provincia di agrigento grazie al finanziamento di cui parlavi prima tu la villa è stata dotata di un anfiteatro di un'area espositiva e di un parco giochi per per i bambini è stato possibile inoltre sistemare la pavimentazione implementare l'illuminazione pubblica ripristinare lo zoo domestico tanto tanto amato dai dai più piccoli ovviamente per per l'amministrazione per per la città intera è una grande emozione un grande orgoglio adesso sta a noi sia come amministrazione che come cittadini prendercene cura e quindi cercare di valorizzarla e renderla luogo di incontro per per gli eventi culturali sociali e per la promozione del territorio anche stimolando i giovani cioè può essere anche un luogo di incontro per i giovani anche per l'organizzazione di iniziative che riguardano i giovani faccio l'esempio dei giovani anche per collegarmi all'assessorato di sua competenza sì sicuramente già ieri pomeriggio incontrando alcuni componenti di associazioni giovanili li ho spronati a presentare delle proposte e organizzare il prima possibile alcuni eventi io ritengo che che se ci impegniamo insomma tutto questo sarà sarà possibile maestro sabella per lei una bella soddisfazione aver realizzato questa pavimentazione in ceramica a ribera sicuramente un bell'impegno un grosso lavoro dove abbiamo veramente dato il massimo di noi stessi visto l'estensione più di 300 metri quadrati insomma di di piastrelle tutte decorate a mano una bella soddisfazione e poi soprattutto collocate in una bellissima location della riqualificazione della villa comunale di ribera queste o genere di iniziative la possibilità di realizzare delle cose che poi vengono fruite da tanta gente e per voi è un punto essenziale della vostra attività perché non c'è migliore promozione di questo sicuramente questo diciamo è il fiorello occhiello perché a prescindere insomma che si trova sul territorio e poi promozione della nostra ceramica esportata a questi livelli voglio dire insomma è solo ed esclusivamente un'immagine che noi portiamo fuori ci sono altri progetti di questo genere in futuro è già stato contattato per altre iniziative sì diciamo che ancora c'è qualche altro lavoro in ballo da realizzare anche se in questo ultimo periodo la settimana scorsa sono stati collocati dei pannelli nella città di mazzara del ballo dove siamo quattro ceramisti di sciacca le prime opere sono state le mie ad essere collocate dico spero in futuro insomma che anche altri ambiti e soprattutto sciacca di una una importanza alla nostra ceramica